Dopo un'estate di allarme rosso per quanto riguardato il comparto turistico, è arrivata finalmente la settimana dei festeggiamenti del Santo Patrono di Lecce e il comparto extra-belghiere del capoluogo salentino sembra essere estremamente soddisfatto degli arrivi in città. Soprattutto Lecce va tanto bene e non ha risentito di quelle flessioni di cui si parla in questo periodo. Qualche buco c'era, soprattutto nei giorni di festa del Santo Patrono, ma sono stati già riempiti last minute. Avendo un'associazione degli extra-alberghiero di Lecce, quindi ci confrontiamo spesso su questi temi, diciamo che la maggior parte delle strutture extra-alberghiero di Lecce hanno riempito le disponibilità. Lecce quindi non sembra aver risentito del calo turistico avvertito, soprattutto a questo punto nelle marine. Quello che probabilmente è mutato invece sono i giorni di pernotto dell'esperienza turistica, che però in questa settimana può contare anche sul concertone di Melpignano. Se prima erano due o tre notti, oggi in questo periodo c'è più la tendenza a fare una notte. Ovviamente il 26 è un sabato, quindi richiama non solo i turisti stranieri, ma anche quelli dell'interno, di prossimità. Anche perché non solo c'è la festa di Sant'Oronzo, ma c'è anche la festa della Taranta, quindi è un convoglio di eventi che ovviamente fa sì che tutte le strutture siano piene. Grazie.